Il signorino Giorgio era un vero ballerino. Anche lui è partigiano. Perché dice che preferiva me a lui? Con Fulga parlavate per ore. Il signorino Giorgio invece... Invece cosa? Giorgio! 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 Che ha Milton? C'è di mezzo una ragazza. Sei Milton? Sì. Sì, circa Giorgio. Non era con voi. Sì, circa Giorgio. Sì. Sì, circa Giorgio.